Amici di YouTube, ben trovati da Marco Liguori, è morto il famosissimo attore italiano, grave lutto per il cinema nostrano, una grave perdita anche per il mondo del teatro. Vi ricordo che a 400 mi piace pubblicherò immediatamente un nuovo video, in questo video con grande dispiacere ricordiamo un pezzo di storia del teatro e del cinema italiano, un grande artista che purtroppo è volato in cielo nei giorni scorsi e con grande rammarico che il primo anno di Marco Liguori annuncia la scomparsa dell'attore, attore di teatro e regista Armando Pugliese, è stato allievo di Ronconi, si specializzò nella trasposizione teatrale di opere letterarie, fu stimato da Italo Calvino di Res, il barone rampante, ma la sua opera più importante è stata il Masaniello, ha lavorato con tutti i più grandi del teatro italiano tra le sue opere, lo scarfalietto di Edoardo Scarpetta e ogni anno punte a capo e questi fantasmi di Edoardo De Filippo, lo ricordiamo anche al cinema per aver preso parte a film come Ferdinando e Carolina della grande Lina Vermiuller e Volesse il cielo di Vincenzo Salemme, il grande attore teatrale ci ha lasciato nei giorni scorsi, a 76 anni Armando Pugliese ha collaborato con attrici importantissime come Vanessa Gravina e Elena Sofia Ricci, soltanto per citarne alcune il primo anno di Marco Liguri con immenso dispiacere, ricorda una leggenda del teatro e del cinema italiano l'attore Armando Pugliese scomparso a 76 anni amici di Youtube, io vi ringrazio per l'attenzione, lasciate il vostro commento, iscrivetevi al canale, condividete questo video, seguitemi anche sul secondo canale di Marco Liguri, il canale dei video di Cronaca, seguitemi anche sul nuovo canale Marco Liguri, psicologia e crescita personale, ciao!